Mancavano pochi minuti alle 21 di ieri quando è scattato l'allarme. In piazza Guido Negri a Vighizzolo d'Este una famiglia di 5 persone era bloccata su un terrazzo su cui aveva cercato rifugio per scampare l'incendio divampato al piano terra dell'abitazione. Impossibile per loro scendere dalle scale che erano state invase dal fumo. I vigili del fuoco sono arrivati dai distaccamenti di Este, Padova e Rovigo con un'autopompa, due autobotti, il carro bombolare e 11 operatori. Tutta la famiglia è stata portata all'esterno della casa con l'uso di una scala italiana. Poi sono state spente le fiamme che avevano interessato il piano terra adibito a deposito di materiale vario. I cinque componenti della famiglia sono stati portati in pronto soccorso per i controlli. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate intorno all'una.